Eccoci qua, buonasera, benvenuti, nuovo appuntamento con questa trasmissione Ci Divertiamo, campionato di Serie C, dunque Teramo e tutte le sei squadre del campionato di Serie D, il girone F, dove sono appunto spalmate le sei abruzzesi. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, buonasera, benvenuto a Tonino Luzzi, buonasera Tonino, fine conoscitore di calcio come pochi, allenatore. Ti ringrazio, ma... No, è così, è vero. Buonasera, bentornato, lui c'è sempre, per fortuna, il nostro opinionista Tiziano Lauducci, buonasera. Buona visione. E poi un grosso abbraccio al presidente del Giulianova Calcio, anzi del Real Giulianova, perché così si chiama proprio la... Finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta, Luciano Bartolini, buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, tra l'altro arriva in un momento non proprio felicissimo della squadra, quindi anche questo va sottolineato. Bisogna metterci la faccia quando le cose vanno male, il presidente c'è anche per questo. Poi naturalmente parleremo anche di tutte le altre formazioni del campionato di Serie D, però volevo cominciare con Tonino Luzzi, con il Teramo. Il Teramo che reduce da questo 1-1 interno con il Vicenza. non è riuscita la squadra di Maurizia a riconquistare appieno il Bonolis, se lo avesse fatto probabilmente adesso avrebbe archiviato la pratica della salvezza diretta, però è un buon punto anche perché è conquistato in rimonta, perché era sotto il Teramo, contro una squadra niente male. Niente male, però anche in Vicenza il punto andava bene perché c'ha 4 punti dal Teramo e quindi… Zona playoff in Vicenza. Noi adesso il punto sicuramente dà un po' di ossigeno, però insomma noi le partite in casa dobbiamo vincerle perché se con un punto, sempre un punto non si va avanti. quando si gioca in casa si deve vincere, a meno che proprio l'avversario non mi è sembrato imbattibile perché nel primo tempo ho fatto quei gol, poi si sono seduti. Ma c'è stato l'infortunio di Paget? Eh ma si sono seduti, quale? Quello di Paget? Sì, però voglio sapere dove stava il mediano metodista quando ha preso la palla. Sì, però era un tiro, insomma… No, Paget è davanti della posizione nel mediano lì, due volte ha buggerato Paget, perché la seconda volta c'era il fuorigioco, ha aperto le gambe davanti alla porta, però anche lì mancava. Però devo dire che come il giocatore… Eccolo qua, eccolo, questo dovrebbe essere il gol. Ecco qua, si vada là, vedi? No, lui lo ringorre ma non fai in tempo a prenderlo. Eh però lì rimbalza davanti, se lo vedi? 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 Ma vedi quanto tira? C'è tutto il tempo lì, controlla la palla e tira, vedi? Questo è il secondo che c'era fuorigioco, perché disturba il portiere, però anche lui ha tirato la mezzapunta, quindi… È vero, ha tirato lo stesso gioco. Due volte, uno ci ha fatto un gol, allora dico, un mediano metodista, oltre a costruire il gioco, deve fare anche da schermo davanti alla difesa. Per me Proietti è più un offensivo, perché ha il piede ottimo, vede la porta, dà gli assist come trequartista come si deve e poi non è un faticatore, diciamo, uno che sta lì piandato, no? Perché, ecco, una grossa mani è la data, quell'altro, non si chiama, Spinozzi è l'altro, ma anche un Persia magari che è un giocatore di quantità. Ma Persia, il misto non lo mette in partenza. Ma lo so, però, per qualche volta lo mette in partenza. Perché sai come se gli allenatori… Perché gli allenatori giocava spesso. Ma no, lui si fida degli uomini suoi, questo è il discorso. Perché ogni allenatore si fida degli uomini. Che fa giocare gli uomini suoi, no? Ma come ci troviamo, ma non mi fate dire le cose. No, no, vabbè, io… Cioè, come ci troviamo, l'allenatore ha portato dei giocatori che lui ha avuto in altre parti, a Foggia, a Ischia. Quindi si è fidato di quelli e quelli che molti li ha mandati via, tipo Baccio De Racino, tipo altri giocatori bravi. Perché la squadra era impostata all'inizio per 4 di 3. Allora, questa scusa, è la classifica, diamo un sguardo anche alla classifica, perché comunque questo punto ha consentito al Teramo di tenere a distanza di 4 lunghezze, quindi la stessa distanza di prima, la zona calda. Certo, adesso stai a 4 punti dalla zona calda, però domenica andiamo a Pordenone, Pordenone non ti può dare niente, perché se vince domenica ha chiuso il campionato. C'ha la Triestina, il fiato addosso dietro e anche la squadra di Caracciolo pure dietro, quindi non gli può regalare. Poi c'abbiamo la Triestina, noi dobbiamo vincere col Pesaro. E poi noi abbiamo preparato la volata salvezza, le ultime 4 partite, 2 fuori casa e 2 in casa. Noi abbiamo due partite temibili, quella più temibile secondo me è la Ternana. Ecco qui, la prossima è Pordenone, domenica alle 16.30 Pordenone-Teramo, Teramo-Vispesaro. Bravo, la deve vincere. Questa si giocherà sabato perché domenica 21 sarà Pasqua. Si è trovata al giorno dell'andata quasi su sopra, perché poi giocava ogni due giorni in settimana per recuperare le partite della federazione. Quindi la squadra aveva un grosso organico, però c'ha anche i grossi giocatori, è vantaggiato, c'ha tutti i giocatori forti. E domenica ha sbagliato un ricordo, il vantaggio è proprio vantaggiato. C'ha Mari Lungo, c'ha tutti i giocatori di serie B, c'è un bilancio per la Ternana che fa paura. Il Presidente si è messo da parte. Però la Ternana è l'ultima in casa, bisogna archiviarla prima, magari se non proprio a Pordenone che è difficilissimo, però fare punti sicuramente contro la Vispesaro. Ma noi troviamo difficoltà proprio con queste squadre qua, perché noi con le squadre grosse giochiamo di rimessa e in contropiede qualche volta l'avversario sbaglia pure, perché parliamoci chiaro, il Vicenza per 50 minuti al secondo tempo la palla noi non l'abbiamo vista. Addirittura. Però dopo… Non è stato pericoloso il Vicenza. No, c'è dicendo, la finalizzazione… Il dominio territoriale. Sì, sembrava che la partita è giustata, diciamo nel senso che no. Perché tutto questo fraseggio… Sì, una sorta di melina, quasi una melina. E' che il pareggio andava bene, Paolo, tiki-taka, no? Il pareggio andava bene a tutte due, dai, questi discorsi. Ma che cosa è, la domanda velocissimamente, che non funziona al termine? Cosa farebbe Luzzi per dare una svolta? Io non voglio fare l'allenatore del termine, l'ho fatto già. No, 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 sei un bel autore del calcio. No, il discorso è questo, che io non vedo una cosa… A caso lo vogliono sapere. La cosa è che sono contrario, è quando un allenatore va in una società e fa la squadra, nel senso che la squadra deve fare il manager, il presidente e l'allenatore, perché se no è una scala che non mi quadra, perché Federico fa il manager e le mani in tasca non fa niente, non ho capito. Bisogna mantenere le proprie posizioni, come ad esempio il presidente deve fare il presidente e se prende un allenatore e poi lo caccia è un fallimento che ha fatto pure il presidente, perché il fallimento è un esodio di un allenatore e il fallimento è dalla società, perché la scelta vuol dire che questo dal pallino è stato azzeccato. Un'ultima cosa poi volevo coinvolgere, se vuole anche nel discorso termo, soprattutto poi parleremo di Giulia Nova. Tonino, Celli, terzo gol stagionale di questo ragazzo che forse è uno dei più positivi di questa nuova… Se vedi il gol, il posizionamento del difensore che l'ha andato a attaccare, la postura delle gambe è sbagliata. Il gol arriva sempre da qualche errore. Non c'era bisogno di andarlo a prendere a 20 metri alto, quando aveva tre compagni difensori dietro, doveva temporeggiare e portarlo verso l'esterno nella parte del lato debole suo e nel lato forte suo, nel marcatore. Che disamina tecnica di alto profilo. Se io ho la palla, il portatore porta la palla e io so che il suo piede è bravo e sinistro e mancino, io lo devo portare sul piede mio forte, invece lui l'ha fatto entrare, tirato e ha fatto gol. Però è un errore individuale di un giocatore che ne ha fatto meno. Adesso tra poco lo vedremo, tra l'altro una gran palla gli era data a Proietti, perché è partito da lui. Ma quello dicevo io, però è anche vero che tu hai visto la partita e io sono obiettivo. noi c'era una punizione a favore del Vicente. No, qui però c'era un rigore. Sì, quello è il rigore. Però vedi qua c'era un fallo, prima, che praticamente… Non so se ce le fanno vedere, perché le immagini sono queste. Ma c'era una punizione a favore del Vicente, proprio lì abbiamo rubato palla e poi si è incuneato. Guarda il difensore come lo marca, lo fa entrare, dai su. Bene a fare. E' stato sinistro chirurgico, direi. Grazie per il momento a Tonino Luzzi, andiamo dal Presidente Bartolini, dicevo prima un momento un po' così del Giulianova che ha perso il derby alla Fadini, quindi in casa contro la Vastese, che a questo punto ha archiviato la salvezza perché è salita a quota 41, anche se mancano ancora 4 partite e Giulianova è rimasta a quota 37, a 4 punti dalla zona che scotta. Tra l'altro Giulianova veniva già da una sconfitta in Molise contro di Sernia, quindi è un momento un po' così, Presidente? Purtroppo la settimana scorsa è stata devastante a livello di risultati, sia in Gardonato che in Coppa Italia. Sì, poi parleremo anche della Coppa. Abbiamo subito 3 sconfitte e niente, ai Sernia siamo stati condannati da un tiro della domenica, giocavamo senza mezza squadra, con la testa rivolta a Messina e poi purtroppo è venuta questa doccia fredda di domenica che nessuno ce l'aspettavamo. Purtroppo a volte ci si mettono delle situazioni esterne a peggiorare quello che diceva male. La situazione esterna è l'arbitraggio che abbiamo subito, domenica Alfadini è stata una cosa incredibile, non l'avevo visto mai in 30 anni, in quasi 40 anni di calcio. Ti avete reclamato un paio di rigori? No, ma 3 rigori erano nettissimi. Uno ve l'hanno dato per fortuna. No, oltre a quello che ci hanno dato ce ne erano 3 clamorosi, quindi poi dalle immagini immagini si vedono tutti e 3, ma quello più clamoroso dicono che era un metro di fuorigioco il primo gol dell'Avastese. Purtroppo le immagini non aiutano. Presidente, però che le faccio subito una domanda, non è che credo da parte dell'arbitro ci sia malafede, nel senso che ci sia un disegno per danneggiare voi, in quanto Giulia Noa, magari è una cattiva giornata di quell'arbitro. Infatti ho detto cose straordinarie, per l'amor di Dio che un arbitro possa fare un'altra favorita una scuola all'altra, l'arbitro mi sembra di Lucca, quindi a lui che interessava se avesse vinto Giulianova o l'Avastese. Una cattiva giornata. Però purtroppo ne abbiamo avute diverse di queste cattive giornate degli arbitri, ce ne sono capitate purtroppo diverse e poi alla fine paghi anche questo, perché in queste partite dove i punti contano tantissimo, gli episodi ti fanno vincere le partite, l'Avastese è stata molto brava perché ha giocato di rimessa nel primo tempo, ha fatto due contropiedi e ci ha fatto dei gol, nel terzo ho preso… Ecco, chiedo scusa, questo è clamoroso, questo è clamoroso, è impossibile non dare, è impossibile, è impossibile, questo è clamoroso. Qui stavamo sul 2-0… Ho avuto l'impressione che anche i giocatori dell'Avastese si fossero fermati, per aspettare il fischio che poi non è impossibile. Quello che io non riesco a capire, per cui sono qui, Di Paolo aveva preso la traversa poco prima, ma quello che io non riesco a capire è che lì il risultato era 2-0 per l'Avastese, quindi tu arbitro come fai? Lui è andato lì a Monito Parlafanti, quindi quello che… Mi spiace. Lì ero abbastanza arrabbiato. Allora qui alla fine del primo tempo ha detto qualcosa, cosa ha detto all'arbitro? No, ma io sempre molto educatamente ho cercato di avere una spiegazione sul perché lui non ne avesse dato perlomeno uno quando ce ne erano due evidentissimi e lui è entrato… Ha risposto qualcosa? No, no, lui è entrato in spiegato e prima ha buttato fuori uno steward, perché lo steward di Giulianova gli è andato contro con fare abbastanza minaccioso e lui ha detto che questo non rientra, poi il dirigente accompagnatore che viene sempre con me in paghina è stato allontanato appena sotto al sottopassaggio perché gli ha detto che stai facendo, fai apposta, quindi lui ha detto questo… Poi ho continuato per tutto il corridoio chiedendo delle spiegazioni, ho detto lei mi deve spiegare il perché non ci fischia dei rigori sacrosanti, dico perché i rigori sono dei rigori, in questa maniera lui alla fine si è indispettito perché io continuavo a chiederlo e lui non mi dava una risposta, sono arrivato davanti al suo spogliatoio e lui mi ha detto se non se ne va via la butto fuori, io voglio una spiegazione, ho diritto, sono il dirigente accompagnatore, chiedo una spiegazione su perché non ci ha dato nessuno dei rigori, va bene allora non rientra nemmeno lei e ha finito lì, ha chiuso la porta e sono stato allontanato in questa maniera. Ecco Presidente, al di là di questi episodi negativi rimane il fatto che magari ci sono anche degli errori da parte della squadra nell'affrontare questa partita, ma anche quella precedente di Sernia, lei ha evidenziato anche che analisi fa oltre… L'analisi che ho fatto io è molto semplice, purtroppo quest'anno abbiamo avuto degli infortuni a ripetizione, questo è vero, difficilmente avete giocato a completo? Sì, dovuti non so a cosa o a quale perché, perché io non vado più a Giulianova durante le settimane, non chiedo… Presidente, mi scusi, queste sono le immagini dell'andata, Giulianova Pineto, Giulianova che ha perso 4 a 0, adesso voi domenica andrete a giocare proprio il derby al Mariani Pavone contro il Pineto, in casa del Pineto, può continuare? Io per spiegare queste immagini. No, quello che dico io è questo, che nel girone di ritorno gli infortuni forse sono peggiorati, pensiamo al fatto che il Romano Tozzi Borsoi che oggi è venuto insieme a me a San Rimini a cercare di farsi curare da un stiramento che si porta dietro da 20 giorni lieve, non riesce purtroppo a fare due partite consecutive, sappiamo l'importanza che il Romano ha per la nostra squadra e quindi queste sono assenze molto importanti che ci hanno penalizzato più del dovuto. Il fatto poi che in Coppa Italia eravamo arrivati alla semifinale, quindi eravamo ad un passo da un risultato storico per Giulianova a fare la finale di Coppa Italia nazionale, penso che sia per tutte le società un evento non usuale, quindi siamo arrivati alla partita di mercoledì con il Messina, le energie mentali erano tutte rivolte a quella partita, quindi la partita prima con l'Isernia. Ecco qui le immagini della gara di ritorno, terminata 3 a 2 in favore del Messina, l'andata, lo ricordiamo, era terminata al Fatini 1 a 1, l'andata addirittura risale a febbraio, al mese di febbraio credo perché c'è una parentesi. E poi siete andati non in vantaggio, in doppio. Poi è successo che il Romano si è fatto male, è dovuto uscire. Questo è un gran gol da parte di Francesco ha fatto un gol da Serie A. Gran gol. Sì, no, purtroppo come è uscito Romano abbiamo perso un attimino… Bella davanti tutta la bella. Questo è il calcio di rigore che vi ha dato, vi ha concesso? Sì, sì, un rigore che l'arbitro già aveva detto al difensore di non continuare a trattenere la maia Romano, è partito… È stato coerente. Sì, sì, il calcio d'angolo e lo hanno buttato giù. Poi ecco, gli hanno dato questo rigore che li ha rimessi in carreggiata. Lì è stato uno scontro un po'… Sì, lì, ma l'arbitro non aspettava altro di pareggiare. Ricordiamo che a Messina c'erano 5 mila spettatori per vedere questa partita. No, lì noi non riuscivamo a parlare con i ragazzi. Campo stretto, piccolo. Sì, lì c'è stato un altro episodio clamoroso che ci è successo alla fine del primo tempo. Arcidiacono ha preso per il collo Bolzan e lo ha spintonato. E non è successo? No, c'è stata continuata una rissa sotto al sottopassare. Queste immagini non le abbiamo. C'è un ricorso, adesso vedremo se… Avete presentato ricorso? Sì, sì, sì. Sì, perché la cosa è spiegabile che il commissario di campo poi ha scritto tutto sul referto e l'arbitro ha espulso per 4 giornate l'allenatore Biagioni con il suo preparatore. Perché ha giocato a Giulianova. Sì, sì, infatti Biagioni ce l'aveva un pochino perché a Giulianova non è stato trattato nella maniera migliore. Però non ha espulso all'inizio del secondo tempo. Ecco, questa è la famosa palla che salvano sulla linea all'ultimo minuto. Sarebbe stato il 3-3. Il 3-3 passerà. Per ricorso, questi sono immagini nel secondo tempo e è caduto tutto nel primo tempo i 5 gol, vero? Sì, il 5 gol nel primo tempo. Guardiamo un po', vediamo se è entrata la palla. No, questa è un altro salvato dal giro portiere. No, non era entrata, non credo che fosse entrata. Sì, no, anche io penso che la palla non è entrata. No, quello non è entrata. Nel secondo tempo abbiamo giocato una partita normale perché nel primo tempo c'erano 6-7 persone tra le due banchine che minacciavano continuamente la nostra banchina. Io stavo in banchina, quindi sentivo tutto. Il nostro allenatore, qualche giocatore, però sappiamo quando vai a giocare in questi campi come funziona. È difficile sia giocare, dico io, che arbitrare. Che arbitrare, sì. La Dicos nel secondo tempo ha fatto allontanare tutti perché io ho fatto un po' di casino. Anche lì sono entrato nello spogliatore dell'arbitro perché ho detto all'arbitro che doveva spellerarci l'iacono. Non riusciamo a capire perché l'arbitro non lo abbia fatto, perché lo hanno visto tutti. Ecco, Tonino, volevo coinvolgerti in questo discorso, proprio per dire quanto è difficile giocare su certi campi in generale. Tu hai tante esperienze. Mi vogliono bene tutti Giuliano, perché ho sempre parlato bene quando Giuliano ha giocato bene, quando ha giocato male non ho mai invierito. Hai analizzato? No, perché ho una grossa stima per i colori giuliesi, anche per il passato che ha avuto e la storia che ha fatto Giuliano. Però a Messina si sa che l'arbitro con quel pubblico si è intimidito un po'. Sai com'è? Quando va in trasferta è dura, Messina, sono campi difficili. Poi la squadra di Giuliano mi sa che ci sono molti giovani. Il problema qual è? Mi diverto a leggere i commenti dei nostri tifosi sulla nostra pagina Facebook e dicono che noi in Sicilia abbiamo vinto a Palermo, a Catania, di qua e di là, lo hanno fatto sempre in partite di Serie C dove fuori quota non ci sono. Se le persone non riflettono un attimo quello che dico, non pensano a questa realtà che è differente, noi abbiamo 4 fuori quota e sostanzialmente quelle ci hanno fatto perdere, perché il portiere nel primo tempo sotto la curva non riusciva a parare, non riusciva a trattenere un paio. Diciamo che non è la colpa del ragazzo, veramente. No, ma è lì, lì, subiva la pressione. Le prime partite da là ci vogliono i barpioni, però come dice il Presidente è stata questione di Yander. L'arbitro che ha fatto, ha visto tutto, però buttare fuori un allenatore a livello di gioco non comporta nessuna penalizzazione per la squadra Cosa B. Gli butti fuori il capitano, il giocatore più forte, che è quello che ha creato tutta la resa, non so che succedeva a Messina quando rientravamo e vedevano che Arcidiacono oltre a Biagioni, perché hanno espulso anche il portiere, due giornate le ha presi Arcidiacono e il portiere oltre… Però sempre dopo tutto questo. L'ha scritto, no, il commissario di campo che ha visto tutto, l'ha scritto. Dopo, durante la partita. Sì, l'ha scritto alla fine sul referto. Adesso bisogna vedere se l'arbitro non l'ha scritto per una questione… Quindi voi sperate in una sorta di ripetizione della partita? No, non è che speriamo. No, certo, noi speriamo che la facciano ripetere. Bisogna vedere se l'arbitro conferma che è stato intimorito e quindi non ha scritto… Bisogna vedere quello che ha scritto. Abbiamo chiesto gli atti infatti. Adesso la finale sarà proprio Messina, Matelica, quel Matelica che sta braccando nel girone F del campionato di Serie D il Cesena. Un'ultima cosa, poi stiamo per andare in pubblicità, Presidente, quanto ci tenevate a questa finale? Questo è risaputo, la piazza forse adesso me l'ho addita quello che è successo, nel senso che i ragazzi volevano andare in finale perché sanno quando io ci tengo, sono due anni che vinciamo la Coppa, quindi abbiamo vinto quella di promozione, quella di eccellenza, volevo andare in finale di Coppa Italia Serie D, ma ci volevo andare per la città, non per me, perché una piazza come Giulianova che ha vissuto per tanti anni i campionati professionistici a livelli importanti, perché Giulianova ha rischiato di andare in Serie B due o tre volte, sappiamo tutti che ha perso i play off e ha lanciato un sacco di giochi. Io ho pensato una cosa, in un anno dove non potevamo vincere il campionato, perché ci sono realtà nettamente superiori alla nostra, volevo regalare alla piazza una competizione dove arrivassimo alla fine e ce la giocassimo per vincerla, quindi la squadra ha dato tutto in quella manifestazione perché erano delle partite secche, quindi arrivati in in Serie Finale, è normale che pensavamo tutti di portarla in via. Grazie Presidente, ci dobbiamo fermare per una breve pausa e poi torneremo di nuovo in diretta a parlare con i nostri ospiti e tra poco. Bene, di nuovo in diretta, gli ospiti di questa sera, ve li ricordo, Tonino Luzzi, grande conoscitore, esperto di calcio, ex allenatore, il Presidente del Giulianova, Luciano Bartolini e poi il nostro opinionista Tiziano Laducci, che credo voglia fare qualche domanda al Presidente. E mi corre l'obbligo, Presidente, Giulianova è la storia del calcio abruzzese, quanto è difficile fare il calcio a Giulianova, quanto pesa? Giulianova una vittoria significa vincere il campionato, una sconfitta significa retrocedere, quindi ho fatto degli esempi per far capire quanta passione c'è, anche se devo dire che ultimamente non ci sono più i numeri che probabilmente c'erano quando Giulianova stava in Serie C. Piano piano si sta risvegliando quell'entusiasmo, però il Giuliese ha bisogno sempre di nuovi stimoli, vuole sempre vincere, vuole ritornare a fare il campionato di Serie c'è e poi se non riesci a stare nelle prime posizioni perdi consensi, perdi spettatori perché vivono molto di passato. Il consiglio che vorrei dare al Giuliese è questo, che vivere di ricordi fa bene perché non bisogna mai dimenticare la storia, il passato però a un certo punto bisogna guardare al futuro. Io credo sempre che il passato è un flash, uno specchietto retrovisore, è stato bello però il mondo deve andare avanti, è un campionato Presidente oneroso sotto l'aspetto economico per come lo fa Giulianova e anche per le altre squadre perché la D è un campionato molto importante, la società sta facendo tanti sacrifici ma le istituzioni gli danno una mano oppure sono un po' resti nel calcio. Io in tre anni che faccio calcio a Giulianova non ho mai ricevuto niente dalla vecchia amministrazione assolutamente ma adesso non c'è più, a Giulianova c'è un commissario quindi stiamo aspettando tutti le elezioni che si faranno a maggio, speriamo che vinca un'amministrazione che poi ci dia una mano perché noi portiamo il nome di Giulianova in tutta Italia e siamo lo sport più famoso, è vero che a Giulianova esiste il basket, il ballavolo, c'è il basket in carrozzina che è famosissimo, però il nostro è un campionato penso dove Giulianova sia più conosciuto. Presidente lei ha detto genericamente speriamo che le amministrazioni ci diavano una mano, che tipo di mano vi aspettate voi? Non credo di natura economica perché difficilmente possano essere questo tipo, però noi paghiamo tutte le utenze innanzitutto, dello stadio e l'affitto anche di dove ci alleniamo, quindi penso che la prima squadra della città per le spese che ha in questa categoria qualche agevolazione la debba avere, ma soprattutto l'amministrazione, il sindaco ti fa conoscere l'indotto industriale nella zona, noi non riceviamo quasi niente dall'indotto perché essendo io uno che viene da fuori è normale. Ma questo secondo lei pesa il fatto che lei non sia di Giulianova? Sicuramente per l'indotto giuliese sì, ci sono altre attività sportive che sicuramente ne soffruiscono più di noi, anche se quest'anno in società ci sono diverse persone di Giulianova che mi danno una mano, però ognuno di loro ha un lavoro, ha degli impegni, quindi non essendo io del luogo è un pochino più difficile, quando ho fatto calcio nel mio paese era molto più facile per me prendere quegli aiuti dalle aziende locali, perché poi le squadre di calcio si sostengono in questo momento in gran parte con queste cose qui, un Presidente che è del posto ha un maggiore… E comunque lei lo ricordava il terzo anno, la terza stagione che Giulianova ha dato atto a questo signore che comunque ha dato continuità al calcio giuliese dove prima di lei c'erano stati un po' di problemi… Beh sì, Giulianova era fallito, lo sappiamo tutti, purtroppo era una società che non poteva più essere presa e quindi abbiamo riniziato da zero e penso che la città debba essere grata a questa società che in tre anni l'ha riportata in questa categoria. All'inizio dell'anno abbiamo detto con molta sincerità che il nostro obiettivo era una salvezza tranquilla, ci si è messa di mezzo la Coppa che ci ha portato via tante energie, stiamo soffrendo un pochino di più per salvarci, però nei piani che avevamo purtroppo queste ultime due sconfitte ci hanno complicato un pochino i piani. Anche un punto forse era prezioso. No, perché dai calcoli che avevamo fatto, tra queste due partite dovevamo avere da 2 a 4 punti. Ecco, proposito di calcoli Presidente, la quota salvezza secondo il Presidente Giulianova, voi avete adesso 37 punti. Ma io penso che già 41 inizia ad essere abbastanza tranquillo, 42 penso sicuramente, le squadre che stanno sotto che hanno i 33 punti debbono fare 8 punti in 4 partite, non so se c'è una media alta, 2 punti a partita è alta. Probabilmente avranno partite con le squadre che lottano per i play off, quindi bisognerà, ecco, già io dico che se facciamo altri 3 punti a 40 iniziamo a stare in un contesto dove ci si può anche stare, ci si può anche stare. Bisogna vedere quello che succede? Presidente, in questa stagione, in corso d'opera, cosa non rifarebbe e cosa avrebbe voluto fare? Quello che non rifarei è che se ci sarò ancora io nell'anno prossimo… perché in dubbio? Non lo so, adesso vediamo, finisce il campionato, poi è venuta anche l'ora che anche io qualcosa chieda a questa città, finisce un percorso, finisce un programma, visto che la città ho capito che se non vinci poi ti iniziano a, no contestare, ma a protestare, tra virgolette, adesso prima farò salvare la squadra, poi qualcosina avrò da dire io, perché nel calcio sappiamo che la riconoscenza non esiste, quello che hai vinto poco prima non conta più e allora adesso vedremo un pochino il da farsi, però se ci sarò io sicuramente la figura di un direttore sportivo esperto ci dovrà essere. E' mancata, si è sentita un po' questa mancanza? Questo però significa, Presidente mi scusi, che vuole strutturarla la società, perché quindi come idea è una buona idea. Noi abbiamo fatto le cose per gradi, quindi abbiamo prima deciso di vincere i campionati a tutti i costi e lo abbiamo fatto in due anni. Quest'anno comunque c'era il Cesena di mezzo, quindi è difficilissimo. No, ma anche non c'era il Cesena, noi in questo momento possiamo competere con il Matelica, Matelica, Francavilla o Pineto che sia, insomma che sono società oltre che hanno dei grandi presidenti, ma hanno anche una struttura per la categoria già fatta, hanno anche l'idea chiare, hanno dei fuori quota all'altezza, noi partivamo da zero, quindi anche il nostro, comparto del settore giovanile non è ancora pronto per darci i fuori quota per fare questa categoria, quindi dovevamo cercare di salvarci quest'anno come abbiamo cercato di vincere negli anni passati, però certo che se la programmazione continua da parte del sottoscritto, bisognerà adesso mettere delle persone competenti che hanno esperienza, anche perché poi se le operazioni di mercato le debbo fare io in prima persona e non le faccio mai di testa mia, ma le faccio sempre in collaborazione con il tecnico, come giustamente diceva prima il nostro amico, poi hanno un valore diverso, se poi un giocatore lo azzecchia o non lo azzecchi, la piazza dice che il Presidente ha sbagliato, il Presidente non deve mai sbagliare, il Presidente può spendere di più o può spendere di meno, però ci deve stare sempre un preposto che sia competente a ognuno nel suo ruolo e che si occupi di queste cose qui. Poi ha toccato a lei l'argomento delle giovanili, qualcosa di egregio quest'anno, l'ho visto qualche volta la riunione si sta facendo, ho notato anche che ci sono dei giovani di prospetto, lei può indicare… Guardi, noi abbiamo 3 o 4 ragazzi che stanno stabilmente con la prima squadra, non li abbiamo più nemmeno mandati con la Juniors, sono Federico Parlafante, ma ci sono anche D'Antonio e Mattia Grisci che sono due ragazzi del 2000, due prospetti che l'allenatore li vede molto positivamente, li stiamo facendo allenare stabilmente in prima squadra e in queste ultime partite gli daremo anche la possibilità di giocare, perché sono ragazzi che poi nell'anno prossimo sono 2000 e quindi ne debbono giocare due per forza, noi a livello di 2000 siamo carenti, abbiamo oltre a questi 3 ragazzi, penso non ci sia nessuno, abbiamo dovuto prendere un portiere 2000 dalla Roma, perché andando via Sciba a dicembre avevamo solo questi pochi ragazzi, poi i ragazzi del 2000 sono piccoli, quindi adesso l'unico mio rammarico che ho è questo, che se la squadra si fosse salvata qualche partita prima, già questi ragazzi li potevamo far giocare con più continuità e li potevamo preparare per l'anno prossimo, perché Federico Parlafante lo vediamo adesso, sta convincendo sempre di più gli addetti ai lavori, perché l'anno scorso Federico ha fatto il suo percorso in prima squadra, quindi ha iniziato piano piano, ha fatto qualche presenza e ha avuto le chance per giocare e adesso è giusto darli a questi ragazzi anche rischiando qualcosa, perché nel famoso mercato di dicembre quando sono stati mandati via diversi giocatori, il sottoscritto ha fatto andare in uscita anche Mattia Fabrizi che era un 98, che adesso è al Francavilla, un ottimo giocatore, un bravissimo ragazzo, però il ragazzo non era nostro, l'ho fatto andare via per dare più spazio a Federico Parlafante perché questi sono giocatori nostri, sono 2000 a differenza di Fabrizi che è 98 e se vogliamo lavorare con professionalità dobbiamo guardare anche il futuro, quindi i 2000 li dobbiamo mettere dentro. Le cose non si fanno per caso Presidente, sicuramente. Salva guardare il capitale societario, i giocatori di sua proprietà. Mi è dispiaciuta una cosa, Mattia Grisci due partite fa ha giocato negli ultimi minuti, veniva da un infortunio e ha avuto un problemino con l'arbitro, gli ha fischiato un fallo, un'ammunizione, l'arbitro lo ha espulso, fortunatamente ieri ha scontato la seconda giornata e secondo me questo ragazzo deve essere rimesso dentro perché ha delle potenzialità e soprattutto ha quella voglia, quella cattiveria agonistica di voler far bene, quindi sono molto curioso e fiducioso su questo ragazzo come su D'Antonio perché è un ragazzo che nella Juniors sta facendo molto bene. La prima partita della Juniors si è fatto male, si è fatto male, si è rotto un menisco e quindi ha ripreso a giocare adesso, questi due ragazzi insieme a Federico un altro anno saranno i nostri 2000, sono il futuro perché poi lo abbiamo visto, se tu hai una squadra forte negli over, ma negli under non sei ben ammesso, la differenza la fanno gli under, le partite non le vinci. Grazie Presidente, per il momento poi torneremo a parlare sicuramente con lei. Prima di tornare da Luzzi per il Teramo… Io volevo dire una cosa, come no? Penso che lui abbia avuto la sfortuna, diciamo il Presidente che non è stato come il quartile e gli altri che avevano già un settore giovanile formato E' vero, anche perché il settore giovanile del Giulianova ha vinto dappertutto, una fusi in estate. E' chiaro che non ha potuto attingere in modo completo sul settore, perché ogni anno Giulianova nel periodo d'oro vinceva un campionato italiano, giovanissimi, allievi e beretti e quindi spornava continuamente a gettito continuo i giocatori, lui ha trovato solo barlafante e un paio di ragazzi. No, io devo dire per sincerità, perché è la verità, che il calcio Giulianova, che è la società che gestisce adesso il settore giovanile, tutti gli anni ci passa ai suoi ragazzi, però ecco… La qualità… Ecco la qualità, noi il problema qual è? Il calcio Giulianova 3 anni fa faceva la promozione e non si è riscritta, noi in 2 anni abbiamo portato il livello della promozione a Serie D e quindi il livello si è alzato… Poi portare dei ragazzi in serie D è difficilissimo, perché un cambiato è difficile, allora la crescita a volte può essere anche spezzata. Sì, noi abbiamo anche… scusami, poi dopo smetto, voglio dire una cosa importante, noi abbiamo anche inserito in partita ragazzi come Pierabella 2001, dei nostri… però sono giocatori che 2001 sono piccoli, bisogna dosarli, bisogna dosarli… a volte andare troppo prima… Controproduce, bisogna bruciarsi… Fai un danno… Prima di tornare da Luzzi per il Teramo, Tiziano, abbiamo parlato e torneremo a parlare ancora del Giulianova, però va detto che Lavastese con questi 3 punti sottratti al Giulianova ha fatto un bel balzo in avanti, la squadra di Papagni… Certamente sì, è un passo veramente importante, tornando alla partita, il pareggio penso che tutto sommato era il risultato più giusto, a prescindere gli errori che abbiamo visto dell'arbitro, però Giulianova al di là di tutto ha giocato anche una buona guardia… Lavastese è salva… Lavastese è salva, è una squadra abruzzese, tra virgolette ci fa anche tanto piacere che sia salvo… Chiaramente facciamo i debiti scongiuri, perché mancano 4 giornate, però insomma… Il vostro è stato fatto, voglio dire… Uno o due punti sicuramente… Però non restando, la partita di domenica non ha rubato nulla, però il pareggio penso che alla fine era il risultato più equo… La cura Papagni è stata in questo caso, così si dice, quando anche qui è stato cambiato il secondo allenatore, Lavastese era partita con Palladini, è arrivato comunque Montani che ha fatto tanti punti soprattutto inizialmente e poi è arrivato Papagni… Vabbè, Montani è stato anche un po' sfortunato… Sì, molto sfortunato… Mentre Papagni adesso tutto gli sta andando bene, nonostante che è un allenatore di alto profilo… Sicuramente la squadra non è da… Assolutamente! No, no, non è assolutamente… Però trovarsi attardata poi nella mente dei giocatori… Ma guarda come del resto lo è anche il Giulianova, però Giulianova, il Presidente mi può anche correggere se sbaglio, ahimè, purtroppo è alla rosa un po' risicata per quanto riguarda un po' l'integratura generale, a prescindere un po' dai ragazzi che sono valido o meno, però qualcun altro di grande, così tra virgolette come si vuole dire, forse serviva il Presidente, o no? No, 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 ma visti gli infortuni, secondo me più che serviva qualcun altro in più, se avessimo avuto meno infortuni, probabilmente eravamo salvi, ma se fossimo usciti prima della Coppa eravamo già salvi. Perché effettivamente Giuliano quando ha giocato a pieno regime ha dimostrato di essere un'ottima squadra, ottima! Tiziano, rimanendo nelle zone calde, l'Avezzano non molla e fa bene non mollare perché è una squadra che può anche perdere, però siccome pareggia qualche volta, vince. Ma guarda che campo, come si fa a giocare, dato anche atto a questi ragazzi che comunque ce la stanno mettendo tutta con il cuore, con la benegrazione, con il sacrificio e con il saper cercare di soffrire, questo è anche la cura con la Vitto, che lui ce l'ha nel sangue il fatto di saper fare un certo tipo di gioco, un certo tipo di lavoro durante la settimana. Ha vinto, ha vinto bene, se vogliamo, uno scontro diretto, il match winner di giornata è stato Bruni. Eccolo qua il gol, l'hai chiamato. Bruni è un ragazzo molto interessante, può fare molto molto di più. Ecco, l'Avezzano adesso, guardando la classifica, ha quotato 33 e questo però vuol dire che purtroppo una delle due, chiaramente ognuno fa i propri debiti, sono giuri, farà parte di questo gruppo play out per forza di cose, possiamo purtroppo concludere così. La classifica dice questo al momento. Per il momento. Adesso, però sono diversi punti ancora a disposizione. Ricordiamo tra l'altro che in questo girone ci sono due retrocessioni dirette, le ultime due formazioni e poi ci sono quattro squadre che sono coinvolte, saranno coinvolte dai play out, saranno play out secchi, chi perde retrocede in eccellenza, quindi in totale saranno quattro le retrocessioni, sono tante anche perché quest'anno ci sono due squadre in più rispetto all'anno scorso, quindi questo un po' va detto. Poi parleremo anche delle altre DD, però voglio tornare da Tonino Luzzi perché riapriamo questa finestra sul Teramo, un Teramo che adesso è atteso, l'abbiamo già detto domenica prossima, inizio alle 16.30, in casa della capolista Pordenone che davvero non perde un colpo, ormai è proiettata verso la B e come ricordavi con eventualmente un'altra vittoria potrebbe addirittura festeggiare in anticipo. Il Teramo ha fatto le più belle partite, diciamo l'ha fatto fuori casa, è in casa che deve impostare il gioco e trova difficoltà. Però tu hai visto la partita credo dell'andata e Pordenone ha fatto una grande impressione. senza dubbio, è la squadra che gioca, forse insieme a Limolese sono le due squadre che mi hanno fatto vedere un po' di valore. Mi ha deluso il Monza, mi ha deluso il Vicenza, ma anche le altre solidarie. Però io poi me ne scordo, volevo dire una cosa al Presidente e poi chiudo. Il Teramo ha vinto, diamo merito a Campitelli perché bisogna darglieli, per i 10 anni ha vinto 5-6 campionati di seguito, dalla promozione ha riportato il Teramo in Sevilla. Però è anche vero che non c'era né Cesena né Avellino, siamo d'accordo. Però il Lanciano, esempio, allenato dal mio ex calciatore del Grosso, faccio i miei complimenti per il campionato, lui a Paciarella. Però il Lanciano, ad esempio, deve affilare, come Giulianova, 3 campionati di seguito a vincere, perché se si spezza a metà strada il pubblico di nuovo diventa moscio. Capitelli quando avviene quei campionati di seguito ha rascinato di nuovo il pubblico. Teramo era andato anche in Serie B, lo so, la continuità. Allora ritorniamo sul Teramo. Teramo, fuori casa, ha trovato un grande giocatore infantino che ha preso al mese di anno, che gli ha fatto 8 gol su 7 partite, perché se no stavamo ultimi, se non ci fosse stato infantino. E poi niente, la squadra gioca sempre di rimessa, a me non è che il tipo di gioco piace, comunque se fai risultati tutto fa broglie. Sì, per il 4-3-3, come sistema di gioco. Però devi avere gli interpreti giusti. Eh, ma io li devi scegliere, devi avere un manager, tu scegli l'allenatore che ti fa quel tipo di gioco, giusto? In concerto col manager, che naturalmente è preparato, porta il giocatore, l'archetipo di giocatore, il prototipo di giocatore adatto per fare quel modo. Ma secondo te, inizio stagione, visto che aveva iniziato Zichella con il 4-3-3, era una squadra da 4-3-3? No, ma Zichella il problema è stato questo, che ha fatto la squadra lui, insieme a Repetto, mi sembra, all'inizio. Poi però, strada facendo, non ha esercitato il modo nel migliore dei modi, diciamo la verità, e quindi l'hanno fulminato, diciamo subito, no? Ma diciamo che perde il come. E niente, poi è venuto questo Maurizio, che praticamente ha cambiato completamente, ha fatto una tracimazione della squadra, perché tutte le ali via, perché il 4-3 dove si basse, con gli esterni bassi forti, il mediano metodista, due mezzali che sono polmoni e piedi, e poi due ali in una punta centrale, diciamo. Le ali, allora, poi devi dare il gioco però alla squadra, no? Perché se poi non è più un 4-3, ma diventa un 4-5-1, giochi con gli esterni bassi e le ali basse, allora non è più quel modulo lì. È un bel catenaccio, è un bel catenaccio. È organizzato. Mascherato. Quindi è meglio giocare come sta giocando adesso Maurizio, con il 3-5-2, diciamo così. Se io devo andare, faccio un esempio, una società che già c'è un telaio, non lo posso smontare, allora io mi devo adeguare ad un altro tipo di modulo, no? Ho 5, giocare 4-4-2, tanti modi sono. Però un zonista, diciamo, che fa il 4-3 ci crede proprio in quel modulo, tu devi trovare un manager che capisce quello che deve, come il fatto di Zeeman e come altri allenatori. Ad esempio, quest'anno c'era Modica, la Cavese, che viaggia sul filo di Zeeman. Il Zeeman. E la Cavese ha fatto un grosso campionato a tutti i giovani, perché ha trovato un allenatore adatto e la gente si diverte. Perché, parliamoci chiaro, il gioco del calcio è un divertimento, non è una sofferenza. Se io devo giocare, dice a 3, poi giochiamo a 5 e facciamo un catenaccio, un tifoso deve stare semi in ansia all'ospedale della Sera. oddio, oddio, oddio. Quindi quegli allenatori che magari si modificano il sistema dei giochi in base all'avversario, no? Per me non mi piace. Io sono propositivo, io imposto il mio gioco e naturalmente non è che lo cambio in base alle circostate, io seguo quello lì e naturalmente però lo devo saper fare. Perché? Deve avere l'interprete giusti. Adesso con questo modulo qua, per la salvezza, è un punto, però soffri sempre, perché non è che tu in casa devi impostare il gioco, perché anche il 5, il 5 porta che tu quando attacchi devi attaccare sempre in 4-5 persone, non è che io gioco dietro e faccio i lanci lunghi, i lanci lunghi non hanno idee. E poi naturalmente la causa di questo modulo nuovo che è stato fatto nel tempo, ha portato anche all'uccisione di tutte le ali che sono andate via. E più è rimasto Zecca che non è un centravanti. Poi sono molti allenatori modaioli, no? Sì, sì. Adesso va di moda questo famigerato, questa famigerata è difesa a 3, perché se uno non fa la difesa a 3 non capisci di calcio. No, ma la difesa a 3, no, assolutamente. Va di moda, no? Va di moda. Esatto, io 70 metri di campo in 3 non ci credo. No, io mai. Perché basta un esterno che non ti rientra. Io sembra una difesa a 4, poi uno può fare 4, 5, 6, 24. Sono le varianti, no? Poi ognuno ha le sue... Giavo Bernardini, Fuffo, diceva che senza ali non si vola. No? Perché? Perché così. Galeone l'ha fatto vedere, no? Ma non è che magari anche a livello giovanile, siccome si imposta il lavoro... Perché l'Ajax, ad esempio, ci fai caso, tutti quanti prendono la candera, la candera, la candera... La candera è l'Olanda che è andata lì, perché i club fai stati 10 anni là, fai giocatore, ha vinto tutto. Poi ha fatto l'allenatore, ha portato quel seme di quel tipo di gioco. Poi ha preso tutti gli allenatori olandesi, ha preso Van Gaal, Rijkaard, ha preso Hiddink, ha preso avvocati, come si chiama, e tutti quanti olandesi, perché quel tipo, se vai a Amster, doveva vedere i giovanili, è una cosa impressionante. Ma anche a Barcellona, cosiddetto calcio totale. Infatti, quello è il progetto, è partito e è andato là a Barcellona, ma vedi che ad esempio, adesso come si chiama, l'allenatore del Manchester City, è andato al Bayern, non ha giocato o così, e neanche al Manchester City, però lì gli esegnano imposti che doveva fare quel tipo di progetto. Infatti, tornando a casa nostra, tornando al Teramo, Pordenone, trasferta diciamo quasi impossibile. Io dico che questo è un bambionato mediocre, secondo me il Girone, perché il più forte è quello A. Però purtroppo è il Girone in cui ci saranno due retrocessioni, perché altrove è successo il patatracchio, non ci saranno nemmeno le retrocessioni. Il Girone A, se vai a vedere la classifica, ci sono 5 o 6 squadre che erano pronte per fare la B e essere chiamati ripescati, o no? Quindi hanno quei telai da serie B. Il Girone Sud è quello piuttosto, perché sia agonisticamente, perché è cattivo. Cioè, se un giocatore va al Girone Sud, un giovane, ritorna giocatore, perché le cose che gli insegnate sono insegnate nel Girone sotto, la cattivergia, si fa maturare molto, capito? Matura prima, diciamo. Matura prima, bravo. Il Girone nostro è un bel Girone, però sono i nomi, ma il Pordenone, che è una società organizzata, fatta da tanti industriali, perché Lovisa è il Presidente, però non è che caccia i soldi, sono il Presidente. Lui dirige, è come un Consiglio d'amministrazione. E' quello che vorrebbe il Presidente Bartolini, in qualche modo, un Presidente, però con tanti colori utili. Il fatto che neanche Quartiglia trovò tanti adepti. Sì, sì, purtroppo è diventato... Ci abbiamo pagato, secondo me, il termo che sta in serie C, e c'è questa forma di ritornare nel professionismo, e ci vogliono andare velocemente, però bisogna fare un progetto tutto insieme e far capire al popolo, diciamo agli tifosi, che ci vuole il tempo, perché non si può fare tutto e subito. Tonino, siamo quasi in fascia pubblicitaria, una domanda e una risposta secca. Il Teramo ha 39 punti, e ha 2 punti dalla zona playoff e a 4 in più dalla zona calda. A cosa deve pensare? Deve pensare che è da partito ogni partito, una alla volta, perché non può fare progetti... Ma deve pensare di più a salvarsi direttamente, perché magari una vittoria poi ti può riportare a pensare, a cambiare obiettivo. Sì, però, insomma... No, no, realisticamente... Le partite in casa bisogna vincere, le partite fuori non sempre ti riesca... Anche perché fuori Pordenone e Cristina? Io sono obiettivo, se facciamo così, l'Albino Leffa ha preso 3 traverse e ha preso la partita. Eh, lo so. Cioè, se andiamo così a subire e poi vingiamo, vabbè, taglio di cappella, i punti valgono. Eh, va bene, allora, carpe diem, carpe diem. In casa devi giocare e vincere. In casa devi conquistare il Bonolis in maniera concreta. Conquistare il Bonolis e poi, naturalmente, mi sa tanto che potresti fare più risultati a Pordenone e a Trieste, che fosse che le squadre ternane e... E vi spesano. E allora, noi ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria e poi andremo dritti dritti per il rush finale. A tra poco. Allora, di nuovo in studio per l'ultima parte di questa trasmissione. Torniamo al campionato di Serie D, anzi, un'ultima informazione su questa partita del Teramo. Pordenone-Teramo, domenica, ore 16.30, perché il Teramo sarà senza spighi, che è stato squalificato. Grazie, però. Rientra De Grazia, non solo, ma Giorgi, oggi è tornato, abili e arruolato. Sapete che Giorgi non era stato nemmeno convocato dal tecnico, però comunque è sempre una freccia in più di Maurizio. Però dall'altra parte, volevo dire questo, dall'altra parte mancheranno per squalifica Berrettoni e Bombaggi, che sono comunque due giocatori un po' importanti per questa campionata. No, adesso ha visto che si crea il problema De Grazia o l'altra punta. O l'altra punta. Sparacello, che sta giocando bene, è uno che è molto generoso, che corre molto. Saranno problemi suoi. C'è una scelta sua. Allora, torno da Tiziano perché dobbiamo dire anche qualcosa dalle altre punze di PD. Allora, intanto c'è il colpo, seppure sul campo del fanalino di Coda, ma non è mai facile vincere, Castelfilardo del Pineto. Ha vinto il Pineto, ha giocato un ottimo tempo, un po' meno nella ripresa, considerando che poi Castelfilardo, cioè se è giocata la partita come doveva, è una squadra importante. La settimana prima credo che abbia vinto Castelfilardo, vero? Quindi, non è che abbiamo... Il Pineto ha sudato le prove bianche, sette canici nel secondo tempo, per portare in porto questa vittoria, con un gol decisivo di Di Rocco. Bravo, questo è la primavera. Veramente un giocatore eccellente che... Il Pineto ha una serie positiva di diverse partite. Sì, da tante partite, 56 punti, quarto posto. La storia di Platino, il Pineto, diciamo, che ha messo nel ghiaccio, oramai penso, un posto nel play-off, salvo insomma... Quattro punti, dalla coppia Francavilla-Notaresco, che una delle due potrebbe entrare, anzi entrerà sicuramente. Certamente sì. Poi, da sottolineare anche il pareggio in casa del Francavilla 3-3... Pareggio in rimonta, però prezioso, perché era contro una concorrente diretta, la rega l'attesa. Giova un buon primo tempo il Francavilla dove poteva fare, sinceramente, poteva raccogliere molto di più, poi nella ripresa, nonostante la doppietta di pregio di Palumbo, ci sono state le solite letali distrazioni difensive, che non è la prima volta da parte del Francavilla, che ha portato un pareggio che è tutto sommato. La prima rete sul calcio di rigore di Palumbo. Ecco, non è da buttare alle ortiche, però, forse la vittoria poteva essere la cosa migliore. Però, ecco, pareggiare anche con la Recanatese, una squadra sicuramente di buon livello, non è stato sicuramente facile. Quello che fa pensare un attimino è questo scivolone interno del notaresco, addirittura 2-0. Però il Forlì, attenzione, è una squadra che si sta... È una buona squadra, sì, sì. È una buona squadra. E poi sta lottando, anche questa è una squadra. No, è la posizione giusta che c'è, per la forza che c'è la squadra. È uscito scivolato, il notaresco ha il sesto posto e esce praticamente questa settimana dalla zona play-off. Tanto il notaresco credo che non vinca da cinque giornate. Si è ingeppato sull'avanti. Si è ingeppato un po'. Anzi, da sottolineare che il notaresco era partita per un campionato di buona classifica, la salvezza è l'obiettivo primario. ha fatto molto, molto di più, per cui va bene così. Chapeau, comunque. La squadra è stata a lungo nella zona play-off, quindi uscire adesso dispiace, no? Sì, il notaresco ha fatto bellissime partite. Sì. È un bel gioco, poi. Ti piace Cudini? Sì, lo dissi qua, tra molti ricordi. Stava lì, poi, Ferenza. Stava lì. Dove essere il presidente. Ma però il notaresco, mi sa che ha delle partite difficili adesso. Allora, il notaresco adesso dovrà giocare la prossima in trasferta in casa del Montegiorgio, che ha pareggiato a Cesena nell'ultima partita. A proposito, questo duello, Cesena-Materica, perché sono soltanto due punti, e tra l'altro, cosa bizzarra, nelle ultime quattro partite il Cesena praticamente si giocherà la promozione in Serie C in Abruzzo, perché ci saranno tre trasferte su quattro. Giulianova, poi c'è l'ultima. Vastese, notaresco, e all'ultimo Giulianova, che speriamo di no potrebbe aver bisogno di punti. Speriamo di no. Però comunque, o ha bisogno, non ha bisogno di una partita. Se dovessimo arrivare all'ultima partita. No, voglio dire, questo Cesena... 5.000 persone al Stadini. Dobbiamo riaprire tutti i settori, non c'è nessuno. No, questo volevo dire che il Cesena sta rischiando, più di qualcosa. Beh sì, per l'organico che c'ha. Materica è abituata, arriva a seconda, forse ha fatto l'osso, perché quest'anno c'è il Cesena, facciamo a seconda un'altra volta. Però, comanda secca a tutti e due gli ospiti. Due punti da parte del Matelica, secondo lei più Matelica o più Cesena? Come vede questo rascio finale? C'è la tua scherza. Ma io dico più Cesena, perché poi quando le partite diventano decisive, i protagonisti fanno la differenza. Cesena ha una squadra fortissima, quindi adesso non può più sbagliare. Per quello che riguarda il Matelica, è anche il finale di Coppa Italia, quindi faccio i complimenti al Matelica perché arrivare in finale di Coppa Italia, poi loro hanno battuto il Mantova, che secondo me è una delle squadre più forti d'Italia in Serie D, e giocarsi il campionato con il Cesena in questo girone, che penso è uno dei gironi più difficili della Serie D di tutta Italia, e non è facile, quindi il Matelica ha fatto un campionato impressionante, sta facendo un campionato impressionante, però penso che il Cesena sia qualcosa in più, specialmente adesso quando giocherà in casa... Però giocherà una volta sola in casa il Cesena, ha tre trasferti. Il calendario è favorevole al Matelica, sulla carta. Vastese e Notaresco, allora Vastese 14 aprile, Notaresco poi ci sarà il turno prima di Pasqua, il 18 giovedì scenderete in campo, e poi si tornerà in campo dopo la pausa legata alla Santa Pasqua, il 28 domenica, io credo che queste due partite siano indicative. Però diciamo che già con il Notaresco, il Notaresco, oramai penso che abbia un pochino mollato per il bluff, penso che abbia un pochino mollato, perché sennò... C'è stata domanda all'Usi, però ci si parla di più Matelica o più Cesena? E io faccio il tifo per Micciola che mi sta dicendo? Anch'io, anch'io faccio il tifo per Micciola. Beh no, per fare il tifo il Matelica è una società marichigiana, quindi conosco il Presidente, conosco tutti. No, sembra che io non faccio il tifo per il Matelica, ho anche un buon rapporto con Camiglia. Ecco l'aiuto a Meco Monaco, insomma, la mia gente non gioca la prossima. Chi? Vabbè, dopo ci arriviamo, dopo ci arriviamo. Scusa. L'agnonese? Meco Monaco che è il giorno domenica. Meco Monaco che è tornato in pista, no? Il tecnico. Sì, sì, ha pareggiato, mi sa. Allora, l'agnonese nella scorsa, l'agnonese 1-1 con il Campobasso, il derby molisano ha pareggiato. Dovrebbe giocare con l'Isernia? Nella prossima giocherà a Isernia, quindi un altro derby, un altro derby molisano. Eh, qui però l'Isernia ha bisogno, anche l'Isernia, di punti. Eh ma lì sono due punti, l'una dall'altra. Sì, l'agnonese 31, l'Isernia 33. Quella è una delle partite. Però se l'Isernia dovesse vincere, credo che l'agnonese... Io non penso che l'Isernia vinca. Eh. Abbiamo giocato la settimana scorsa e sinceramente penso che l'Isernia sia una delle squadre meno attrezzate tra quelle che stanno... Ma voi ci avete perso. Ma noi ci abbiamo perso... No, noi ci abbiamo perso... Ci mancavano anche noi, ci mancavano diversi giocatori, però abbiamo perso con un tiro incredibile, il tiro della Domenica, se no non avevano fatto un tiro in botta. Ma l'agnonese è più forte sulla carta dell'Isernia, sicuramente sì. Presidente, tornando un po' a Giulianova, c'è stato anche qui il cambio della guida tecnica, credo a gennaio ci sia stato, c'era Stallone, che se non ricordo male in 22 partite aveva ottenuto con quella squadra, con la sua squadra, 26 punti, quindi una media di 1, qualche cosa. Bolzan nelle restanti 12 partite, 11 punti, quindi la media non è migliorata. Però Bolzan non ha la stessa rosa che ha avuto Stallone, perché noi a dicembre abbiamo fatto diverse uscite di giocatori anche importanti in soprannumero, perché la verità è una... Non l'ha detto prima Fabrizi, per esempio. No, ma non è Fabrizi, noi abbiamo andato via Mangiacasale, Ferrante, Forò, Frulla, abbiamo andato via, oltre a Fabrizi, a qualche altro ragazzo, Palladini e Filo. Perché li avete mandati via? Abbiamo andato via perché eravamo in esubero come numero, perché noi a settembre, prima abbiamo preso Torelli, il primo ottobre abbiamo preso Mangiacasale, quindi abbiamo preso due giocatori che venivano dalla categoria superiore in più, quindi a dicembre abbiamo rifatto numericamente la rosa, perché dovendoci salvare abbiamo preventivato una spesa che fosse giusta per il tipo di prospettiva che dovevamo fare, avendo fatto nei due anni scorsi due campionati dispendiosi. Poi le società, se le vogliamo far saltare con pochi anni, gli diamo il massimo risultato, tutti gli anni e poi esplodono, invece se le vogliamo trattare in una maniera giusta bisogna fare i conti, con i bilanci, quindi noi facciamo questo qui, probabilmente a Giulianova non si ricordano più che funziona in questa maniera, pensano che noi tutti gli anni dobbiamo vincere, invece guardiamo anche ai bilanci, quindi quest'anno abbiamo detto spendiamo meno perché non dobbiamo vincere nulla, quindi cerchiamo di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Presidente, le cronache giornalistiche, anche questa protesta da parte del pubblico, la contestazione riguarda, non so se proprio contro la società o contro il tecnico Bolzan, che cosa si sente di dire? No, io l'ho detto adesso, Dario Bolzan è un professionista, è una persona che è venuto a Giulianova, un allenatore che è venuto a Giulianova con tanta voglia di far bene, quindi si è buttato a capofitto in questa esperienza, lui ha sciolto un contratto professionistico, quindi lo aveva fino a giugno, quindi con tanto entusiasmo è venuto Giulianova, certo che Bolzan ha dovuto fare i conti con gli infortuni, il primo di Romano Tozzi-Borsoi, il Giulianova senza Romano Tozzi-Borsoi è una squadra, con Romano Tozzi-Borsoi ne è un'altra, e Stallone nella prima parte del campionato ci ha fatto tanti punti con Romano Tozzi-Borsoi, quindi il punto cruciale secondo me è questo qui, un allenatore può essere bravo quando vuole, ma se non hai i protagonisti in campo che fanno la loro parte e poi dopo i risultati... Ma facciamo la sostituzione, l'esonero di Stallone, quindi è preso più da un fattore tecnico, strettamente tecnico, anche di piazza? No, di piazza, perché Giulianova, poi l'abbiamo detto prima, Giulianova se non vince... Però in prospettiva 26 punti in 22 gare, quindi salvezza certa, questo invece non è certissimo. No, ma il problema Giulianova è questo, che per la tanta passione della piazza poi succede che gli allenatori vengono contestati, io in tre anni che... Il presidente si è fatto un po' influenzare in qualche modo... No, influenzare, poi è successo purtroppo che la squadra ha perso diverse partite e far giocare la squadra in un fatini che contesta non è semplice, quindi un presidente poi deve sempre tutelare la propria squadra, i propri giocatori. Sicuramente, che sono soprattutto ragazzi. Che sono ragazzi, che ce ne sono tanti che giocano, in Serie D ce ne abbiamo quattro titolari e quindi alla fine ho dovuto fare quella scelta perché nell'ultima partita che giochiamo, adesso non mi ricordo contro quale squadra era, Nico Stallone fu contestato aspramente dalla... Allora, voi avete perso, quando è stato esonato, in casa contro la San Maurese? Ecco, era la San Maurese, sì. 1-0 credo, se non ricordo... Allora bisogna recuperare, poi pubblico con i risultati, chiaramente il fatini deve tornare un fortino. No, io ci tengo a dire la cosa più importante, domenica non c'è stata una contestazione, ma un gruppo sparuto di tifosi sono venuti lì vicino gli spiegatoi e hanno voluto prima parlare con me, poi parlare con il mister e poi parlare con il capitano, è stata una cosa tranquillissima, sono persone che conosco da tre anni, alcuni anche sono diventati degli amici, io penso che il tifoso abbia il diritto di essere rassicurato, però devo dire che i ragazzi della Curva Ovest sono gli unici che in questo momento si meritano di ottenere una salvezza il prima possibile, perché i nostri ragazzi ci hanno seguito dalla prima partita che hanno giocato in promozione, in tutti i campi che abbiamo fatto, siamo andati in campi di promozione dove non c'era nemmeno spazio per mettere lo stricione, a volte tipo Balsorano, però i ragazzi ci sono stati sempre, li abbiamo portati a Messina e il mio dispiacere più grande di non essere andato in finale è rivolto a loro, perché si sono fatti un giorno di pullman per venire, hanno visto la partita e sono ritornati a casa, posso immaginare con quale stato d'animo, domenica loro non sono venuti a contestare nulla. La squadra è andata sotto la curva, però loro hanno detto due parole. Il tempo è letteralmente volato, ringrazio il Presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, Tiziano Lauducci, Tonino Luzzi, in bocca al lupo naturalmente a tutte le formazioni abruzzesi, anche se ci sarà un derby proprio domenica, Pineto Giulianova che vincca il migliore, no non abbiamo tempo, poi Sant'Arcangelo Francavilla, Vastese Cesena, Savignanese Avezzano, Montegiorgio Notaresco. È davvero tutto, ringrazio in regia la collaborazione tecnica di Massimo Pacilio, ma rimanete lì perché alle 22 partirà Sergio Zappalorto con il calcio a 5 stelle. A risentirci e buona serata.